Dai gioca che ho messo il telecomando, la cina è presa. Gioca Alessio, giocaci. È instaccabile. Come si chiama? Togli la mano, se no non si vede. Come si chiama il vero nome? Sta camminando. Alessio, come si chiama quell'insetto? Il cervo volante. Il vero nome? Cerca di togli un nome sull'olana. Deve staccargli questi artigli. Se non ci gioca lui sull'olana. Lo vedi? Devo fermarlo. Togli la mano che se no non si vede. Ecco, mettiti così. Deve cercare. Se me sta andando, cavoli. Che può cadere? L'ho acchiappato, dai mamma. Ti sto riprendendo. Fai la riprenda.